Dopo un anno di sede vacante il Consiglio delle Autonomie Locali ha eletto il nuovo presidente e Bruna Sibille, sindaco di Brà, che in questi mesi in qualità di vicepresidente vicario dopo le dimissioni di Carlo Riva Vercellotti ha svolto le funzioni di presidente. È un grande onore e anche un grande onere assumere la presidenza in questo momento del Consiglio delle Autonomie Locali. Il mio impegno sarà un impegno che andrà oltre quello che è la rappresentanza di un sindaco ma cercherà di tenere in grande considerazione ogni ente rispetto alle funzioni che svolge, rispetto ai fondi di cui può disporre e le interrelazioni che ci sono tra i vari enti in modo da meglio collaborare, meglio lavorare insieme.